A me è l'onore di introdurre Frank Asillo. Frank è laureato in scienze motorie, ha un master all'Università della Sapienza in sport, stress e nutrizione e poi ha fatto un anno di specializzazione e aggiornamento in medicina all'Open Academy of Medicine di Venezia. Scrive su bodybuilding.com e su mypersonaltrainer.it. Nella sua carriera ha vinto il Super Body Award nel 2002 e nel 2005 e poi è stato vincitore di categoria e assoluto alla Tournament of Champion MPC di Los Angeles nel 2011. Ma soprattutto Frank ha recentemente, è appena uscito il suo libro di nutrizione funzionale, è un libro che non parla solo di proteine, grassi, carboidrati ma è un libro che parla proprio di ricomposizione corporea, quindi di nutrizione e allenamento a favore del miglioramento della composizione corporea. Non è solo per gli atleti, è soprattutto orientato anche al miglioramento della salute. Leggetelo perché sfaterà moltissimi miti del tipo le uova fanno male, le proteine fanno male, le proteine sovraccaricano i reni. Prendetelo perché è un libro estremamente innovativo appunto soprattutto sotto il profilo della nutrizione, dell'integrazione e dell'allenamento specifico integrato. Ma la vera domanda secondo me è, ma in mezzo a tutte queste attività Frank, ma quando l'hai scritto il libro? Benvenuto. Benvenuto a Frank Casillo. Buonasera a tutti, grazie sopra Giacomo e rispondo subito alla domanda di Valentina. Sembrerà strano ma l'ho scritto durante i miei allenamenti. Gli argomenti che avevo studiato in passato, apparentemente slegati tra di loro, si integravano reciprocamente secondo una logica ai fini salutistici. Una sorta di flow, un pensiero veloce, fluido ma altrettanto lucido. Faccio un esempio. Si è visto che soggetti con In questi studi si è visto che il testosterone è in grado di decrementare sensibilmente alcune delle citochine che corredano il quadro pro-infiammatorio dell'artrite reumatoide. Ad esempio abbassano il TNF-alfa e l'interleuchina 1-beta. Ancora, si è visto che l'aumento del grasso viscerale addominale fa aumentare in modo sensibile TNF-alfa, interleuchina 6, i valori di estradiolo e la leptino resistenza. Tutti i fattori che sinergicamente alterano l'equilibrio funzionale dell'asse ipotalamo-ipofisi-testicoli portando conseguentemente a un declino della secrezione di testosterone. Decrementare il testosterone vuol dire aumentare i processi infiammatori e così si alimenta un circuito, un circolo vizioso nel tempo. Bene. Ancora, aumentare i livelli di grasso viscerale addominale vuol dire aumentare l'attività di un enzima che si chiama 11-beta-HSD1, cioè 11-beta-idrossisteroide di tipo 1 che aumenta la conversione del cortisone inattivo in cortisolo. Quindi si ha un'accessiva e spropositata produzione di cortisolo indipendentemente dall'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Questo vuol dire che chi è grasso, tra virgolette, aumenta in modo importante il livello di stress metabolico e agisce anche sull'immunosopressione. Bene. Questi argomenti all'interno del mio libro sono integrati tra loro e pertanto all'interno del libro si parla anche di come e perché migliorare la composizione corporea attraverso allenamento e giuste strategie nutrizionali riesce a prevenire l'incalzare delle malattie croniche. Bene. Questo era solo per rispondere alla domanda di Valentina. Adesso introduco il mio argomento. Oggi in questo incontro parlerò in via del tutto generale dell'importanza del bilanciamento tra spesa energetica, impatto metabolico indotto da esercizio fisico e scelte qualitativi o nutrizionali volte al fine di migliorare la performance, il recupero e soprattutto la salute. Come tutti sapete l'atleta è sempre alla ricerca del suo picco di forma sia esso di natura funzionale, quindi miglioramento delle performance, o di natura Tutto ciò viene ricercato attraverso protocolli di allenamento sempre più impegnativi. E fin tanto che l'allenamento è corrisposto da una giusta dose di recupero allora si hanno adattamenti positivi e migliorie. Ma se il sovraccarico allenante supera le capacità di adattamento del singolo ecco che si sfora prima nel FOR, poi nell'ENFOR e poi nell'OTS. FOR è l'acronimo di functional overreaching, per overreaching si intende uno stato transitorio di sovrallenamento. Lo si interfaccia quando il soggetto va incontro a sovraccarichi allenanti e quindi ne consegue uno stress mentale e un declino delle performance a breve termine. Tuttavia con la giusta dose di recupero non solo non si compromettono gli adattamenti positivi all'allenamento conseguiti fino a quel momento, non solo si rifavorisce l'omeostasi metabolica organica ma addirittura si producono migliorie. Il problema è quando l'atleta non dà la giusta attenzione al periodico recupero quindi si sente forte, continua ad allenarsi a livelli sopramassimali e allora sconfina in una condizione ben più nefasta che è il non-functional overreaching. Si tratta di una condizione che l'atleta incontra quando il carico globale di allenamento, dato da durata, intensità e frequenza di allenamento supera le sue capacità di recupero e risultando in uno stato di affaticamento insolito elevati tassi di malattia, ciacchi, stress psicologico e soprattutto difficoltà nel performare ai livelli attesi. Questa condizione può durare da alcune settimane fino a alcuni mesi tuttavia se non si pone rimedio si sconfina nella condizione peggiore che è l'overtraining syndrome, cioè la sindrome da sovralenamento che presenta le stesse caratteristiche che forgiano il non-functional overreaching ma dura da mesi fino ad anni nonostante i diversi tentativi di recupero e il ritorno a carichi di allenamento di valore inferiore è una condizione fisica completamente debilitante per l'atleta che lo compromette in toto nelle sue capacità di recupero e la loro capacità di brasso è una condizione fisica completamente debilitante per la side o competitiva è una condizionale che Java Quindi pensiamo a immaginare cosa potrebbe succedere se si facessero seguire in maniera sistematica una serie successiva di allenamenti o competizioni all'interno di una stagione agonistica o sportiva e non siano corrisposti dalla giusta dose di recupero, sonno e soprattutto appropriate strategie nutrizionali. Sarebbe il preludio al crollo più totale dell'atleta che noi semplicisticamente etichettiamo sotto il nome di sovralenamento. In questa slide si mettono a confronto i diversi effetti tra un'attività a basso impegno metabolico che è la camminata veloce e la maratona su diversi marker dell'infiammazione dello stress e su diversi marker dell'immunità innata e dell'immunità adattativa. Come voi sapete l'esercizio fisico è fonte di danno muscolare, micro lesioni delle fibre muscolari, stress ossidativo che portano a secrezione di citochine infiammatorie alle quali segue un rapido flusso di neutrofili e monociti, Quindi, guardate qua, aumenta il rapporto neutrofili-linfociti che esprime un marker di infiammazione e quindi segue la risposta antinfiammatoria rappresentata dagli ormoni dello stress, tra cui il cortisolo, che come sapete è un ormone catabolizzante. Bene, entrambe le attività fanno innalzare tali marker dell'infiammazione e dello stress, ma come potete notare l'attività a più alto impatto metabolico determina un innalzamento più sensibile degli stessi. Invece, trend completamente opposto subisce il sistema immunitario in risposta ai due diversi livelli di attività. Guardate, l'attività a basso impegno metabolico favorisce effetti pro-immunitari, quella ad alto impegno metabolico lo deprime. Deprime l'immunità innata e l'immunità adattativa. E' questa diminuita protezione del corpo dagli insulti esterni, sebbene transitori e quindi duri da ore fino a qualche giorno, dipendentemente dalle condizioni di partenza. ...quanto è importante recuperare. Bene, sebbene recupero sonno, riposo, giochi in un ruolo fondamentale nel ripristinare l'omeostasi in seno a tali parametri, il focus di questo mio intervento è evaliare l'impatto che ha la nutrizione a tal fine. E quindi introdurrò opportunamente e di diritto il concetto di immunonutrizione, cioè una serie di elementi nutrizionali che hanno un ruolo fisiologico ben preciso che tende a modulare e supportare il sistema immunitario apportando effetti giovevoli in seno a situazioni di stress fisiologico, di malattia e di infortunio. Infatti l'immunonutrizione è validamente utilizzata dai soggetti con la PEM, protein energy malnutrition, dai soggetti col cancro, dai soggetti anziani con fragilità e da tutte quelle condizioni di stress fisiologico derivanti da grandi operazioni chirurgiche, da infortuni traumatici e da ustioni estese. Ma l'immunonutrizione ha accattivato molto gli interessi del mondo dello sport, già che gli atleti vanno incontro sempre più a allenamenti serrati e ad alto impegno, compromettendo pertanto non solo le loro capacità di performare, ma anche di recupero e del sistema immune. Sono diversi gli elementi dell'immunonutrizione, ne annovererò solo alcuni. Carboidrati. Si è visto che l'allenamento intenso condotto con basse disponibilità glucidiche è un forte attivatore dell'asse ipofisi, ipotalamo, ipotalamo, ipofisi, surrene, quindi comunemente noto come asse dello stress, con conseguente secrezione di cortisolo, ormone adrenocorticotropo, adrenalina, aldosterone. Invece una somministrazione di carboidrati adeguata riesce ad affievolire e attenuare la risposta dell'asse dello stress all'insulto offerto dallo stimolo allenante ad alta intensità. Non solo, si abbassano le perturbazioni immunitarie e diminuisce la secrezione di citotine pro-infiammatorie. Infatti si è visto che... Questo vuol dire che in un soggetto di 70 kg si traduce in 42 grammi di carboidrati, tradotti in banana su circa 219 grammi per ora, fa abbassare del 22% il numero di leucociti, del 23% questo rapporto neutrofili-linfociti, che esprime l'infiammazione, quindi si abbassa l'infiammazione, e diminuisce il cortisolo del 28%. Quindi, gli ormoni dello stress giocano un ruolo importante sui geni che controllano le cellule immunitarie e le relative secrezioni citochinergiche. Pertanto l'interazione esercizio-carboidrato gioca un ruolo fondamentale nel modulare tale cascata di segnali di trasluzione. Tuttavia, i carboidrati di per sé non sono in grado di attenuare l'abbassamento di questa particolare categoria di linfociti natural killers, tantomeno di diminuire, di attenuare la diminuzione della proliferazione dei linfociti e delle IGA salivari. Ecco che a questo punto subentrano altri elementi e validamente dell'immunonutrizione. I flavonoidi, che sono una delle quattro categorie insieme ai lignani, gli stilbeni e gli acidi fenolici, che compongono lo spettro dei circa 8.000 composti polifenolici, che sono sostanze con attività pleiotropica e diversità strutturale che per tali caratteristiche hanno sempre accattivato l'attenzione poiché potenziali contromisure allo stress fisiologico indotto dall'esercizio fisico. Infatti, e lo fanno bene, i flavonoidi riescono a migliorare l'attività dei natural killers, a migliorare le proprietà di un'altra categoria di linfociti che sono i T-regolatori e avere effetti antivirali in risposta allo stress fisiologico rappresentato dall'allenamento. Invece, nel migliorare la proliferazione dei linfociti, ci sono le whey, le cosiddette proteine del siero del latte, che si è visto che riescono a migliorare la proliferazione dei linfociti grazie a diversi patue di integrazione tra di loro. Alimenti, pensate agli agrumi, pensate al cioccolato fondente, al vino rosso, al tè nero, al tè verde, al tè oolong, banana, cipolla e prezzemo, eccetera, eccetera. Bene. Torniamo ai carboidrati. È meglio assumerli prima o dopo la competizione? Prima o dopo l'esercizio fisico intenso? Sia prima che dopo. E vediamo perché. Si è visto che per intensità d'allenamento superiore al 60% del V2 max, la secrezione del cortisolo è lineare all'intensità allenante. Cioè, superata quella soglia, più aumenta l'intensità, più aumenta il cortisolo. Bene. Si è visto che la risposta del cortisolo all'allenamento intenso risulta smorzata, affievolita, se questo è preceduto dal consumo di un pasto contenente carboidrati. Si è detto carboidrati post allenamento, migliorano il recupero. Però è anche vero che un pasto contenente carboidrati fa aumentare la secrezione di cortisolo post-prandiale, perché carboidrati, iperglicemia, iperinsulinemia, ipoglicemia reattiva e il corpo per ristabilire l'omeostasi glucidica, quindi l'eoglicemia, favorisce anche un'increzione addizionale di cortisolo. Quindi aumenterebbe lo stress. In condizioni basali, sì. Ma se il pasto glucidico è preceduto dall'allenamento, ecco che la risposta cortisolemica al pasto è smorzata. Quindi carboidrati fondamentali per abbassare i livelli infiammatori e stressogeni rappresentati dal cortisolo. Proprio per queste caratteristiche, alcuni osservano che abbassando l'infiammazione e abbassando lo stress, si inibirebbero anche quella serie di segnalazioni cellulari che sarebbero responsabili degli adattamenti positivi all'allenamento. Quali sono questi adattamenti positivi all'allenamento che l'assunzione di carboidrati inibirebbe? In un contesto di dieta cosiddetta low carb, cioè ipocalorica, ipoglucidica, diminuendo la quantità dei carboidrati, ecco che in percentuale aumentano i lipidi. Aumentare la quantità di acidi grassi nel sangue rispetto ai carboidrati determina un blocco selettivo su un punto chiave della malattia. L'ossidazione dei grassi è il metabolismo aerobico-ossidativo che ha localizzazione intracellulare all'interno dei mitocondri. In poche parole, di fronte a una scarsa disponibilità glucidica, le fibre muscolari sviluppano adattamenti metabolici per compensare attraverso l'estesa utilizzazione dei grassi l'energia da produrre sotto forma di ATP. Vediamo come questo occorre nello specifico. Condizioni di deficit energetico-cellulare sono diversi gli stressor che lo possono indurre. Avvelenamento metabolico, ipossie, ischemia e nel nostro caso deprivazione energetica come dieta ipocalorica e ipoglucidica e allenamento intenso e o prolungato. Tutti questi fattori fanno aumentare il rapporto intracellulare di AMP-ATP che viene captato e aumenta l'attività attiva, più precisamente, una particolare proteina kinasi che è l'AMPK. L'AMPK fa, tra le sue tante funzioni, due cose contemporaneamente. Uno attiva il PGC-1α, e cioè il coattivatore 1α del proliferatore gamma del perossisoma. Questa proteina aumenta l'ossidazione dei grassi e aumenta la biogenesi mitocondriale, quindi aumenta il numero dei mitocondri, delle fornaci metaboliche della cellula. Ma contemporaneamente aumenta anche la traslocazione dei GLUT4 dal citoplasma verso il sarcolemma. Cosa vuol dire? Aumentare la traslocazione dei GLUT4 vuol dire essere in grado di captare una maggiore quantità di zuccheri dal plasma nell'unità di tempo. Aumentare l'ossidazione vuol dire utilizzare grassi che producono più energia e aumentare la biogenesi vuol dire aumentare il numero di grassi che possono produrre energia attraverso la loro ossidazione. Per avere consapevolezza di questo vi faccio un raffronto comparativo sulla resa energetica netta derivante dalla combustione anaerobica di una molecola di glucosio, dalla sua scissione completa aerobica e dalla ossidazione completa dei costituenti il triglicerida. Come sapete un triglicerida è formato da tre acidi grassi e una molecola di glicerolo. Ogni acido grasso con 18 atomi di carbonio la sua ossidazione produce 147 molecole di ATP per tre acidi grassi sono 441 molecole di ATP più le 19 che si producono dall'ossidazione del glicerolo quante sono? 460 molecole di ATP dalla combustione di un solo triglicerida. quindi se mettiamo in atto la più grande efficienza di poter utilizzare i grassi e di estrarre più glucosio dal sangue ecco che questi sono due adattamenti metabolici notevolmente giovevoli soprattutto per gli atleti impegnati in sport di endurance. Bene, l'assunzione di carboidrati inibirebbe tali adattamenti. Perché? L'inibirebbe perché l'assunzione di carboidrati fa aumentare la glicemia e fa aumentare l'insulinemia. Aumentare la glicemia vuol dire creare un contesto metabolico completamente antitetico a quello che ha evocato l'attivazione della MPK che poi è stata è stata la responsabile dell'aumentata biogenesi e della traslocazione dei GLUT4. E poi l'elevazione dell'insulinemia inibisce la lipasi ormonosensibile che è quella responsabile della mobilizzazione dei grassi. Quindi si arresta anche la mobilizzazione dei grassi. Bene, tutto ciò sembrerebbe apparentemente svantaggioso. Invece vi spiego perché non lo è. Cioè perché una somministrazione adeguata di carboidrati sempre che avvenga in corrispondenza di esercizio fisico vigoroso non solo non inibisce la biogenesi mitocondriale addirittura preserva la funzione mitocondriale e la perdita di massa muscolare. E la perdita di massa muscolare impatta negativamente il sistema immune perché determina una diminuzione della funzionalità dei linfociti dei macrofagi e una diminuzione della proliferazione dei linfociti. Quindi preservare massa muscolare vuol dire avere effetti pro-immunitativi. si è visto che durante esercizio fisico intenso e prolungato si hanno delle variazioni in seno a centinaia di metaboliti soprattutto quelli derivanti dalla utilizzazione dei grassi. In uno studio si è visto che per un'attività di corsa sul tapirulano condotta al 70% del V2 max i metaboliti del pathway dei grassi aumentavano di ben 5 volte rispetto ai livelli basali e rimanevano alti fino a 14 ore post allenamento ma ciò che è interessante osservare è l'impatto che ha l'allenamento sul super pathway dell'acido linoleico è un acido grasso polinsaturo essenziale molto diffuso nella dieta ma soprattutto nel plasma e nei tessuti quando questo acido grasso entra nel suo metabolismo produce degli acidi grassi più lunghi e più insaturi attraverso particolari enzimi di elongasi e desaturasi rispettivamente in pratica si formano dei suoi metaboliti ossidati derivati chiamati oxilipine la sfortuna vuole che tali oxilipine derivanti dall'acido linoleico abbiano attività pro-infiammatorie e esercitino vasocostrizione più precisamente l'acido 913-idrossi-octa-deca-dienoico 913-ode è un marker dello stress ossidativo ed è associato ad aterosclerosi e malattia di alzheimer ancora si formano due isoleucotossine che producono effetti tossici ma soprattutto inibizione della differenzazione degli osteoblasti delle cellule specializzate volte al rimodellamento della matrice organica del tessuto osseo quindi questa inibizione insieme anche ad altri fattori concorre per osteopenia e osteoporosi e poi inibizione della funzione mitocondriale cioè se da una parte di fronte a un ridotto apporto glucidico il corpo mette il piede sul pedale dell'acceleratore favorendo adattamenti metabolici positivi alla performance come la biogenesi mitocondriale l'ossidazione dei grassi dall'altra parte conseguentemente all'estesa utilizzazione dei grassi mette il pedale sul freno determinando delle delle disfunzioni metaboliche che sono completamente antitetiche a quelle che si sono create in origine come ho fatto vedere prima si blocca l'HSL e quindi la mobilizzazione dei grassi se si blocca la mobilizzazione si blocca l'ossidazione dei grassi e non si formano più quelle oxilipine di tipo pro-infiammatorio sono marker dello stress ossidativo quindi diminuisce lo stress ossidativo e si previene il catabolismo proteico perché si ricorda che lo stress ossidativo è il link che associa l'infiammazione alla perdita di massa muscolare in più se si blocca la formazione di oxilipine pro-infiammatorie ecco che viene meno l'inibizione della maturazione degli osteoblasti e anche l'inibizione della funzione mitocondriale qua manca una slide manca una slide eccola qua è stata messa nell'odio vedete questo ricapitola quanto detto prima ci si sottopone a un'attività di cycling di 75 km prendete in considerazione queste tre oxilipine che derivano dal metabolismo dell'acido linoleico queste quelle associate ai fenomeni di aterosclerosi e di alzheimer guardate come si impenna immediatamente dopo la fine dei 75 km così questa e così questa per tornare poi a livelli basali a 21 ore post allenamento ancora in questa slide si mettono a confronto tre gruppi caratterizzati per l'assunzione di tre forme glucidiche praticamente diverse rispetto a un gruppo di controllo placebo che ha assunto solo acqua nell'impattare i valori di quella oxilipina che è la 913 ode si vede che al termine dei 75 km di cycling tutti e tre i gruppi che hanno consumato carboidrati determinano una diminuzione statisticamente significativa rispetto al placebo di tale oxilipina la colonnina verde esprime coloro che hanno assunto la banana di tipo cavendish quella che noi troviamo nei nostri reparti ortofrutta la sola praticamente la colonnina gialla quelli che hanno assunto la banana mini yellow le mini bananine ok invece il gruppo rosso zucchero saccarosio guardate cosa succede un'ora e mezza post allenamento soltanto coloro che hanno assunto la banana mini yellow e non la banana il processo di dimagrimento attraverso l'ottimizzazione della mobilizzazione ossidazione dei grassi perché perché se si assumono carboidrati aumenta la glicemia aumenta l'iperinsulinemia e si bloccano quindi tutti quegli adattamenti che favoriscono l'utilizzo del grasso a scopo energetico bene ma se fosse questa la via da percorrere quella del dimagrimento allora sarebbe auspicabile adottare particolari strategie cautelative quali? diminuire le fonti alimentari che contengono acido linoleico quali sono? quelle che ne contengono di più in ordine decrescente sono l'olio di germe di grano l'olio di soia l'olio di semi di sesamo l'olio di semi di girasole le noci i pinoli le noci brasiliane quelli che ne contengono di meno in ordine decrescente mandorle olio d'oliva noci nocciole nocciole pelate tuorlo avocado eccetera eccetera bene perché? perché se si diminuisce il loro rapporto si impoveriscono anche i tessuti e quindi si producono meno oxilipine preinfiammatoio contemporaneamente favorire un'assunzione di omega 3 EPA e di HA perché si sostituiscono nei tessuti all'acido linoleico e EPA e di HA quando entrano nel loro metabolismo producono oxilipine sì ma ad attività anti-infiammatoria e favoriscono la vasodilattazione e poi favorire l'introduzione di flavonoidi perché i flavonoidi non solo riescono a inibire i ROS ma addirittura riescono a inibire l'attività pro-infiammatoria di alcuni enzimi che sono coinvolti appunto nella produzione dei radicali liberi che sono le ciclo-ossigenasi e le lipo-ossigenasi bene ho finito con i carboidrati vediamo i cosiddetti BCA e gli aminoacidi a catena ramificata si è visto che in condizioni cataboliche quindi malnutrizione e infezioni hanno effetti pro-immunitari infatti si è visto che la loro somministrazione cronica-acquotica questa qua infatti uno dei suoi componenti che è la leucina il suo aumentato uptake a livello muscolare favorisce la sintesi è l'aumento della disponibilità di glutamina pertanto i suoi effetti pro-immunitari sarebbero mediati dal metabolismo della glutamina infatti in condizioni ipercataboliche come sepsi malnutrizione e ustioni si è visto che la somministrazione di ramificati riesce a abbassare i livelli infiammatori attraverso il pathway della glutamina ancora gli aminoacidi ramificati fanno attenuare abbassare i cosiddetti DOMS dolori post allenamento a instaurazione ritardata si è visto che prima di un allenamento che prevedeva delle serie di squat la somministrazione di 100 mg di ramificati pro chilo di peso corporeo ha determinato un sensibile decremento di tali valori parlo dei DOMS questo lo si deve a diversi effetti che hanno i ramificati ne cito solo due gli aminoacidi ramificati l'aumentato uptake di leucina favorisce post allenamento un incremento del downstream pathway di MTOR faccio vedere la leucina quindi nutrienti favorirebbe l'attivazione di MTOR MTOR attivato attiva la P70S6K che fa iniziare la sintesi proteica sul ribosoma d'altra parte MTOR determina uno distaccamento della 4EBP1 che è una proteina inibitoria dell'AIF4E che anche questa regola le sintesi proteiche cioè cosa fa? fa attaccare l'MRNA sul ribosoma bene l'attivazione di questo pathway contemporaneamente determina un abbassamento dell'NFKB un marker dell'infiammazione locale ecco che i DOMS vengono attenuati ancora i ramificati aumentano l'attività in modo sensibile di tre enzimi antiossidanti la se si tratta di atleta cosa vuol dire che fin tanto che la persona consuma una quantità sufficiente di proteine la loro introduzione extra non produce effetti addizionali viceversa il contrario e poi parliamo delle whey le proteine del siero del latte che contengono un'ampia quantità di aminoacidi ramificati nel loro spettro ma anche di aminoacidi che contengono zolfo come la taurina e la cisteina si è visto che è importante disporre di aminoacidi donatori di gruppi sulfidrilici poiché questi riescono a far attenuare la depressione dei livelli di glutatione intracellulare in risposta ad esercizio fisico intenso e si è visto che i linfociti protagonisti del sistema immunitario adattativo sono particolarmente sensibili ai composti sulfidrilici più precisamente si è visto che un allenamento intenso per 4 settimane buttando giù i livelli di glutatione intracellulare ha fatto abbassare anche il numero di linfociti la situazione è stata invertita somministrando un potente precursore del glutatione che è il NAC e cioè l'N-acetilcisteina ancora le proteine del siero del latte migliorano la sintesi di glutamina che è importante per l'asse glutamina glutatione e poi come ramificati proprio perché contengono ramificati in buone quantità le proteine del siero del latte riescono a migliorare sempre l'attività enzimatica di quegli enzimi antiossidanti citati prima quindi glutatione perossidasi superossido dismutasi 1 e 2 e catalasi in più le proteine del siero del latte riescono a opporsi allo stress ossidativo rappresentato dai radicali liberi perché riescono a far abbassare il livello di tre citochine proinfiammatorie interleuchina 1 beta tnf alfa e interleuchina 6 bene questa è stata una rapida carrellata circa l'importanza di alcuni elementi dell'immuno nutrizione nel favorire la performance il recupero e la salute ma altrettanto mi fa riflettere su quale può essere lo scompenso di diverso livello conseguente a chi si improvvisa sportivo della domenica o addirittura a chi attua in maniera sistematica la folcloristica strategia del fai da te considerando l'aspetto nutrizionale un vero e proprio option oppure non considerandolo affatto grazie a tutti per la vostra attenzione io questa slide la conosco l'abbiamo già vista diverse volte ormai l'ho imparata non la trovo più subito lo sai anche qui credo che sia tutto chiaro quello che ha spiegato Frank ok ogni volta che in buona sostanza ho spiegato che la nutrizione è di un certo tipo è fondamentale non solo per la performance ma anche per il recupero e quindi la salute a un livello più profondo ma se non si spiegano i tecnicismi non si è credibili no ma poi anche perché come funziona poi puoi interagire con essi e credo che gli alimenti poi siano un modello di comunicazione che abbiamo con il nostro organismo per poi creare delle reazioni ogni cosa che mettiamo dentro ci può far diventare dei guerrieri o dei malati giusto e ogni volta che ascolto Frank parlare e ne rimango stupito ogni volta incredibilmente ricordo che mi piace ricordarlo in ogni summit che ho dato anche carta bianca ormai un anno e mezzo fa a Frank seguendo dissequamente quello che mi ha suggerito e i risultati per me sono stati veramente sorprendenti questo poi ci ha portato finalmente a pubblicare un libro che è appunto quello che citava Valentina nutrizione funzionale che peraltro questa settimana ha cominciato ad essere spedito tutti i lettori che lo stanno aspettando con grande ansia e sono felicissimo di questo progetto perché due anni fa sembrava una cosa lontana quasi impossibile da realizzare se bene ti ricordi quando ti dissi secondo me avresti tutte le informazioni per scrivere un libro di grandissima qualità e molto interessante per il lettore quindi mi chiesi di scriverlo esattamente un anno e mezzo due anni di lavoro però ci arrivi e queste sono le soddisfazioni io so che la tua carriera professionale che sta prendendo altri lidi proprio grazie a questo e questo ugualmente deve essere secondo me un'ispirazione per chi ti guarda oggi perché quello che vediamo non è sicuramente frutto degli ultimi mesi di studio ma è qualcosa che stai facendo da oltre 20 anni continuamente e sfido chiunque voi a trovare uno come Frank a livello internazionale quando lo trovate me lo portate e e ne riparliamo quindi ti faccio veramente congratulazioni Frank è sempre un grandissimo piacere averti con noi parlare ascoltarti volevo spendere due parole su Giacomo devo dire che lui è un talent scout senza di lui non avrei incominciato a scrivere il libro è uno che ha messo il piatto sul collo è uno che ci ha creduto sicuramente più di me è uno che ha saputo indirizzare le mie energie perché per quanto riguarda i contenuti sebbene siano tutta farina del mio sacco e lui è riuscito a canalizzarli al di là del marketing nei tempi essere lungimirante come ha fatto con tutti e anche nella sua attività dire a Frank questo libro grazie 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 a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti